Tanta buona per tutti ragazzi bentornati in un altro video qui MrBlack e oggi ragazzuoli miei chicchi besti miei andiamo a giocare ovviamente a Clash Royale Si è tanto tempo ovviamente che non ci vediamo e questi giorni ho avuto modo di scaricare altre applicazioni per cercare qualcosa di nuovo Perché ragazzi parliamoci chiaro ci sono veramente tante applicazioni al giorno d'oggi Ce ne sono una marea, una caterba, milioni di milioni ma ce ne sono davvero poche che poi alla fine utilizziamo Poi vi farò vedere prossimamente anche delle app insieme a MrRock che saranno veramente o app imbarazzanti o app consigliate sempre da noi dello staff Che sono le più utili durante la settimana, durante il mese, diciamo quelle top app da avere assolutamente nei propri dispositivi, nei propri smartphone Allora se vi piace l'idea spoliciate subito Per il resto non so se sapevate che è uscito la versione, perlomeno siamo riusciti a installare su dispositivi Android anche Clash Royale E per farlo ragazzi vi invito a guardare il video di MrRock che ci ha speso veramente tanto tempo per realizzare questo video guida Per appunto installare e provare a giocare anche con dispositivi Android Non cambiate magari un profilo australiano o canadese ma riuscite comunque a giocarci in Italia Ci sono un po' di passaggi da fare, è semplicissimo potete vederlo qua in questo video Per il resto ragazzi partiamo subito con il classico attacco Oggi volevo farlo in live, ho visto, ecco, partiamo già male con le connessioni che non vanno Ok, ok, allora facciamo una cosa, mettiamo subito la, ecco, partiamo così Sperando che la connessione vada bene E niente, partiamo subito, apriamoci un po' di free chest, visto che ci sono Le apriamo, ah, volevo dirvi anche, mentre partiamo, volevo dirvi anche che Inizierò Plants vs. Zombie fra un paio di giorni Good luck, quanto odio la gente e poi che mi manda i good luck Guarda, spero, spero morirsi tutti Ok Dai, vai con la pozza, vai con la pozza, vai con la pozza, vai con la pozza, vai con la pozza Signore mio, signore mio No, 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 no Non facciamo scherzi ragazzi, non facciamo scherzi Non facciamo scherzi No, la mongolfiera no Guarda quanto leva, guarda quanto leva Porca palettina, palettozza Già ci hanno buttato giù Partiamo molto male oggi ragazzi Partiamo molto male Ma molto 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 male Non siamo concentrati infatti Allora Adesso vediamo cosa gli rimane a lui Visto che fa tanto lo splendido Vediamo 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 così Vediamo così Ok ci ha già buttato giù tutto Bene ancora una volta Io rilancio un altro di questi Via Là così Vediamo se gli rimane ancora qualcosa Questo maledetto azerbaijan Andiamo così cattivi Via Adesso come la mettiamo Come la mettiamo adesso Eh Come la mettiamo adesso Eh Come la mettiamo No 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 Questo fa male Questo fa molto male Questo fa troppo male Questo fa troppo male Veloce Sinistra 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 Eh madonna che sfiga però Che minchia faccio Eh questo rimane da fare così Rimane da fare così ragazzi Molto bene Molto bene No No Ma quanta roba c'ha Porca paletta Porca porca Andate ragazzi Andate ragazzi Andate ragazzi Andate ragazzi No Sta sbagliando tutto Sta sbagliando tutto Va bene Credo che non metterò mai Questo video Va bene Va bene Non mi interessa Andiamo avanti Andiamo avanti Adesso partiamo Partiamo cattivi Partiamo cattivi Vediamo cosa succede Se partiamo cattivi Attenzione Attenzione Gran mossa Gran mossa No La mossa di merda La Gelati tutti Distratti bene A posto La così Va bene Va bene Ci siamo Abbiamo recuperato The king morirai The king morirai Perché qua c'è Mr. Black Attenzione La cattiveria E l'arroganza Sono alle stelle Andiamo Andiamo Allora Io direi di attaccare Ok Perfetto Subito Vai 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 Adesso Doppio 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 No dove va Dove va Bella lì Bella lì Gran mossa Gran mossa In anticipo Mamma mia Grandissimi Grandissimo attacco Adesso Per far fuori Quello Proviamo a fare Proviamo a fare Anzi attendiamo Il chicco bestia Vediamo se il chicco bestia Ha le palle Di venire Dai Attaccami Perché qua non è facile Sto Sto attendendo Che possiamo fare Questa cosetta qui Che è abbastanza interessante Perfetto No 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 Non vale Così non vale Non vale Non vale Vai così Vai così Vai così In anticipo Gioca sull'anticipo Va bene Va bene No 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 Eh vabbè Allora io te la gioco così Là Presi in pieno Tutti quanti Andiamo ancora Attacco Mr. Black No perché vai di là Dove vai Ma ce l'hai di fianco No incredibile Incredibile Dobbiamo vincere Prima dell'overtime Signori Ok va bene Va bene Va bene Non ci scordiamo Che noi siamo stati I primi Nel mondo Stiamo Mr. Black Ce la puoi fare No 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 Così no Così non vale Va bene Allora io Me la gioco così Io me la gioco così Poi Poi vedete voi Vai vai così Vai così Vai così Vai così Che è vinta Vai così Che è vinta Vai così Che è vinta Ma chi se ne frega Dalla fattura di telecom Porca paletta schifosa Non riesco ad arrivarci Non riesco ad arrivarci Forse ce la facciamo Forse ce la facciamo Attenzione Attenzione 34 Ce la fa Ce la fa E andiamo Mamma mia Non si vede niente Non si vede niente E c'è il ballo E qui c'è il ballo E qui c'è il ballo Ok è stata bella anche questa Signori E niente Stacco Visto che sono tre quarti d'ora Che registro Non ho vinta una Una volta che non ho vinta una Stacco sul più bello E niente ragazzi Tantantissimo Buogna per tutti Spero che vi sia piaciuto il video Un bacione Mr.Black Vi saluta tranquilli Perché arriva Clash of Clans Ciao Ciao